Ciao, in questo video faremo una ruota arrivando in arabesque e vediamo chi riesce a non muoversi. Ok? Bene. Debbie? Possiamo muovere? Sì. Chi arriva prima a tre senza muovere il piede ha vinto. Ok? Chi arriva prima a tre senza muovere il piede ha vinto. Eh, no. Debbie, ti lascio il blocco così almeno mi segni, sennò ci perdiamo. Ok, stop, prove. Stop, prove. Vedete qua, vedete qua per favore. Partite di lì. Chi inizia? Vado io. È giusto, ok. Allora Debbie, le devono fermare a tre secondi, ok? Quindi da quando sono ferme contiamo tre. Sì. Lali? C'è. Caterina, riesci a fare un passo un po' più in là? Ok. Ok. Vai. Miki? Niente? Vabbè, il prossimo. Tre secondi, però devi star firma. Non è che puoi fare l'aereo. 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 Niente? Ok. Rosa! ok niente io direi di sì cioè da quando vi fermate la debì conta da quando pensi che vada bene ok hai mosso il piede però la ruota non la si può fermare in verticale ruota si va no Emma bene Letizia è a 2 o 1? è a 2 Rosa Emma Emma 1 2 3 4 alza un po' di più la voce devo 1 2 3 ok kate 1 2 3 ok mici quanto è? è a 0 allora allora Emma ma si può fare un doppio salto e non fermare una ruota in arabesca? vabbè è normale eh le cose più semplici e poi 1 2 3 brava dobbiamo finire il giro però o no? sì ma che la roda ah ok ok quindi è impossibile che la patta poverina perché lei è a 0 no? sì dai però ce la devi fare facceli vedere almeno una dai così da dai 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 brava ok la campionessa delle ruote in arabesca è? Letizia ci vediamo al workshop il 20 aprile e qui ci sul canale sul canale sulla pagina instagram Centro Sporvollate ciao